Una giornata di confronto sui problemi che i servizi della giustizia minorile e gli altri servizi del territorio che si occupano dei giovani in situazioni di disagio e devianza si troveranno ad affrontare nel 2017. È stato il fulcro del convegno La generazione delle povertà complesse, svoltosi all'interno dell'Istituto di Nisida. Un momento in cui gli operatori si sono interrogati su come affrontare le problematiche al fine di attenuare la recrudescenza del fenomeno e il conseguente allarme sociale. Ascoltiamo Giuseppe Centomani, dirigente del Dipartimento della giustizia minorile per la Campania. Lo scopo primario è quello di riflettere insieme con tutti gli operatori, sia della giustizia minorile sia quelli del territorio che collaborano con noi, su che piega sta prendendo il fenomeno dei ragazzi che commettono reati. Perché è un fenomeno sempre più complesso, non è quantitativamente maggiore rispetto al passato, ma è qualitativamente più complesso, più complicato. Per cui noi dobbiamo interrogarci insieme su come sta evolvendo questo fenomeno per far evolvere anche la qualità dei nostri strumenti di intervento e anche per intervenire tutti nello stesso modo. Perché se ognuno va per la sua strada e non ci si mette d'accordo sugli obiettivi da raggiungere, sulle modalità di lavoro da mettere in campo, allora si è meno efficaci di quello che serve. Nella giornata sono state presentate le progettazioni per l'anno in corso dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Napoli, del Centro di Prima Accoglienza, degli istituti penali di Airola e Nisida, dei servizi di urni polifunzionali di Nisida e Santa Maria Capoavetere e dei servizi penali minorili di Salerno. Intervenuta Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il trattamento penitenziario in area minorile non può e non deve essere diseducante, ma deve essere riempito di contenuti che siano pedagogicamente significativi. Questo perché il tempo della detenzione della pena possa diventare tempo di proficuo per l'attuazione di interventi che vadano nel senso della promozione umana e del riscatto sociale dei giovani detenuti.